Bentornati sul mio canale amici o se siete nuovi benvenuti, sono Elisa True Crime e come ogni lunedì e venerdì anche oggi sono qua con voi e vi racconto una storia di True Crime che mi ha particolarmente scioccata. Prima di iniziare voglio ricordarvi che ho creato un modulo in cui potete consigliarmi i casi che volete sentire sul mio canale, non mi ricordo se l'ho già detto in uno dei miei video l'ho detto, forse no, l'ho detto solo su Instagram, non me lo ricordo più. Comunque ho creato un nuovo modulo, lo trovate nella descrizione sotto questo video, anzi l'ho messo in descrizione sotto ogni video così potete trovarlo ovunque, basta semplicemente compilarlo così per me sarà più facile andare a trovare i casi da trattare nei prossimi video. Dunque oggi parliamo di Christine Sheddy. Christine era una ragazza bellissima sia dentro che fuori, era una ragazza dalla bellezza oggettiva, alta, bionda, con due occhi azzurri e un sorriso che illuminava la stanza. Christine sorrideva sempre, era molto dolce, molto estroversa, le piaceva uscire con i suoi amici, le piaceva far ridere le persone a cui voleva bene, dicono di lei che avesse un grande senso dell'umorismo. Le piaceva cantare anche se i suoi amici dicono che fosse stonata come una campana ma questo non l'aveva mai fermata. La sua infanzia non è delle migliori, sua mamma Lynn Dodenoff l'amava molto però era rimasta incinta di lei che era giovanissima. Di conseguenza aveva dovuto lasciare la scuola e fare due lavori per poter mantenere la sua famiglia. Lavorava sia all'aeronautica militare che in un baretto per arrotondare. E stessa cosa faceva suo padre. Ora nelle mie ricerche su questo caso il padre di Christine è totalmente assente, quindi non mi è chiaro se ad un certo punto i suoi genitori hanno divorziato, non mi è chiaro quale sia il ruolo del padre di Christine nella sua vita, quindi se non parlerò di lui in tutta questa vicenda, insomma questo è il motivo, non ho trovato nessuna informazione riguardo. Comunque tutto ciò per dire che Christine è cresciuta con due genitori praticamente assenti. Ma Christine avendo questo atteggiamento molto positivo non patisce molto la cosa, anzi è più sua madre a patirla. Ancora oggi uno dei suoi più grandi rimpianti è quello di non essere stata più presente nella vita di sua figlia, anche se chiaramente è stato fatto in buona fede. E sono sicura che Christine lo sapesse, sua madre aveva bisogno di lavorare per poter mantenere sua figlia. Comunque Christine crescendo ad un certo punto conosce un ragazzo di nome James Lynch. Si conoscono a scuola e si innamorano perdutamente. Iniziano ad uscire insieme, iniziano una relazione e Christine era sicura di aver trovato l'uomo dei suoi sogni. E poco tempo dopo però, esattamente come sua mamma, anche Christine si accorge di essere rimasta incinta. Anche lei giovanissima e anche lei di conseguenza è costretta a lasciare la scuola per potersi prendere cura di sua figlia, che era una femminuccia. Sua mamma è dispiaciuta di questo, non voleva che facesse i suoi stessi errori, diciamo. È dispiaciuta più che altro del fatto che Christine avesse dovuto lasciare gli studi. Ma si offre di ospitare a casa sua nel Delaware sia Christine che il suo fidanzato James, così da poterli supportare al massimo. La madre di Christine, Lynn, descrive James come un uomo meraviglioso. Amava sua figlia con tutto se stesso. Christine era tutto il suo mondo. Erano una coppia davvero bellissima ed erano molto maturi per l'età che avevano. Si erano presi tutte le responsabilità che avere un figlio comportava. Ma purtroppo, proprio nel momento più felice della loro vita, succede un evento tragico. James ha un incidente sul lavoro che lo costringe a farsi ricoverare in ospedale. E durante una delle analisi che gli vengono fatte, i dottori trovano qualcosa nell'osso della sua gamba. Una macchia. Scoprono infatti che James aveva un tumore. Chiaramente questa notizia devasta tutti. James lotta contro questa malattia con tutte le sue forze. E Christine passa tutto il suo tempo insieme a lui a supportarlo. Ma purtroppo la malattia è troppo aggressiva. E ad un certo punto, sia lui che Christine devono rassegnarsi al fatto che non sopravviverà. Infatti, poco tempo dopo, James muore. E Christine si ritrova improvvisamente da sola, con una bambina e un enorme dolore da affrontare, a cui non era per niente preparata. Cade infatti in una brutta depressione. Si chiude in casa e non vuole vedere nessuno, non vuole parlare con nessuno. Si isola completamente e passa il suo tempo a scrivere poesie, che era una cosa che le piaceva molto fare. Ma queste poesie erano molto cupe. Era un modo per sfogare la sua tristezza. Ma dopo un po' di tempo incontra un suo vecchissimo amico. Un uomo di nome Levi Hall, in cui trova un po' di conforto dopo la morte di James. Levi incoraggia Christine ad andare avanti con la sua vita. E lei si sente al sicuro con lui. E non passa molto tempo prima che questa amicizia diventi qualcosa di più. I due iniziano ad uscire insieme. E la famiglia di lei è felicissima di vedere finalmente Christine sorridere di nuovo. E dopo poco, Christine perde letteralmente la testa per questo ragazzo. Si innamora follemente di Levi. Levi spinge appunto Christine a rifarsi una nuova vita. a conoscere nuove persone. Quindi decide di presentarle dei suoi amici. E la porta nella contea di Worchester, nel Maryland, a casa di una sua amica. Una ragazza di nome Tia Johnson. Tia è una ragazza decisamente esuberante. Le piace divertirsi, fare sempre festa. Ed è molto estroversa, proprio come Christine. Le due infatti diventano subito amiche. Tia era proprio la persona di cui aveva bisogno Christine in quel periodo della sua vita. A Tia piaceva organizzare sempre feste in questa sua casa gigante che aveva. Era una specie di cascina, diciamo, in mezzo al nulla. Accendevano sempre questo grosso falò nel loro cortile. E avevano l'abitudine di sedersi tutti intorno a questo fuoco a chiacchierare, a bere. Christine inizia ad andare a queste feste regolarmente. E durante una di queste serate conosce il fidanzato di Tia. Un uomo di nome Clarence Junior Jackson. E in questo video lo chiameremo Junior perché tutti lo chiamavano così. A questo punto Christine ha una nuova vita. Una nuova compagnia di amici. Un nuovo fidanzato, Levi, con cui infatti molto presto decide anche di avere dei figli. Nel 2003 nasce il loro primo figlio, Isaac. E dopo poco hanno un altro bambino di nome Zeke. Ma purtroppo le cose tra Christine e Levi non andavano così bene come sembrava. Da un po' di tempo infatti i due avevano iniziato a litigare molto spesso. E i motivi di queste litigate erano fondamentalmente che Levi fosse un ragazzino immaturo. Uno scansa fatiche che non aveva voglia di prendersi cura dei loro figli. E a quel punto avevano tre figli. Gli piaceva invece andare in giro a fare baldoria come se non avesse nessuna responsabilità. Gli piaceva andare nei night club a sperperare tutti i suoi soldi nelle spoglierelliste. Ma soprattutto aveva preso l'abitudine di tradire Christine. Addirittura pare che quando Christine era incinta del loro primo figlio, lei lo avesse proprio beccato in pieno. Aveva risposto al telefono, a una telefonata di una ragazza, che Levi stava corteggiando in quel periodo. E addirittura avevano in programma un appuntamento. Parlando con questa ragazza, Christine scopre che Levi le aveva detto di essere single e che lui e Christine si erano lasciati già da tempo. E non dimenticate, lei in quel momento era incinta di otto mesi. Si era quindi fatta dare da questa ragazza l'ora e il luogo del loro appuntamento. Cioè dell'appuntamento che lei avrebbe dovuto avere con Levi. E a questo appuntamento si era presentata Christine. Immaginate la faccia di Levi quando invece della sua amante si è visto arrivare la sua fidanzata incinta. Ma purtroppo Christine aveva questo brutto vizio di vedere il buono in tutti. Che non è un brutto vizio, però avete capito cosa intendo. Era convinta che Levi sarebbe cambiato. Che forse era solo stressato per l'arrivo dei figli. Era convinta che in fondo l'amasse. Ma Levi invece non faceva altro che peggiorare. Diventava sempre più cattivo, sempre più violento con lei. Inizia col darle sempre più ordini. E non passa molto tempo prima che la violenza psicologica, come purtroppo spesso succede, si trasformi in violenza fisica. Levi inizia infatti a mettere le mani addosso a Christine. E non mi stancherò mai di dirlo perché già sto immaginando alcuni commenti che arriveranno. Perché arrivano sempre. Non è facile uscire da queste relazioni tossiche. Ogni volta che parlo di questi argomenti mi si spezza al cuore nel leggere tutti questi commenti, purtroppo da parte di donne per la maggior parte, che mi scrivono proprio, ah ma se l'è meritato, avrebbe dovuto lasciarlo. Se fossi stata io l'avrei lasciato alla prima, non so, al primo tradimento, al primo schiaffo. Posso dirvi, evitate commenti del genere. Davvero, se non avete mai vissuto una relazione tossica, allora non potete capire. Cioè, se pensate queste cose, allora davvero non lo potete capire. Significa che siete stati fortunati, voi e le persone intorno a voi, a non averlo mai vissuto. Ma per favore non giudicate le vittime di questi abusi perché, ve lo assicuro, non è così facile come può sembrare dall'esterno. Comunque Christine ci mette del tempo ad arrivare al suo limite, però alla fine ci arriva. Sopporta queste angherie per anni e anni e anni, ma alla fine, nel novembre del 2007, decide coraggiosamente di lasciare Levi e andare via. Ma prima di andarsene di casa, ha una stupida discussione con sua madre. Litigano davvero per una stupidaggine sul fatto che fosse finito il latte in casa perché uno dei figli di Christine aveva l'abitudine di bere un sacco di latte. Beveva un gallone di latte al giorno, che sono tipo più di tre litri di latte. E quindi, siccome il latte era finito e Christine non l'aveva ricomprato, hanno discusso, insomma, una discussione futile. Ma Christine, che era già molto stressata per tutti i problemi che aveva con Levi, è esplosa e le ha risposto abbastanza male. E quella sera Christine decide appunto di andare via di casa. Ma chiaramente non sa dove andare, non ha soldi, non sa cosa fare, quindi decide di prendere i suoi figli e andare dalla sua amica Tia, che aveva questa casa molto grande ed era disposta ad ospitarla. Decide di andare a vivere lì per un po' di tempo, così da allontanarsi da Levi e nel frattempo decidere quale sarebbe stato il prossimo step. Tia ospita volentieri Christine e i suoi figli e Christine può finalmente rilassarsi un po', svagare la mente. A casa di Tia, come già detto, c'era sempre festa o comunque c'era sempre gente in giro. Ed è in questo modo che Christine conosce il cugino di Tia. Un ragazzo di nome Justin Heidel, molto giovane, aveva soli 16 anni. Justin aveva una famiglia problematica, non ci sono molte informazioni a riguardo, ma a quanto pare a causa di questi problemi, anche Justin si era rifugiato a casa di Tia e stava vivendo anche lui lì in quel periodo. Le cose per i primi giorni vanno bene, nel senso che appunto Christine riesce a rilassarsi, ma dopo solo una settimana Christine non sta più bene in questo posto. Non sappiamo con esattezza che cosa sia successo e che cosa l'abbia messa così a disagio, anche se dalle cose che succederanno possiamo immaginarlo. Fatto sta che dopo solo una settimana Christine era pronta a tornare a casa, ad andare via di lì, ma non voleva telefonare a sua madre per dirglielo. Perché dopo quella stupida discussione sul latte, le due non si erano più parlate. Christine era sempre stata una donna molto testarda e orgogliosa e non voleva essere lei a telefonarle per prima. Quindi decide invece di telefonare ad un suo amico, un certo Jimmy Q. Quayle, che chiameremo semplicemente Q. Dice a questo suo amico di voler tornare a casa disperatamente, perché non stava più bene lì, e gli racconta anche che c'era stato un piccolo, diciamo piccolo incidente col fuoco. Perché per qualche motivo il fuoco, le fiamme della stufa o del camino, ho trovato delle versioni contrastanti, non mi è chiaro, comunque era praticamente esploso così tanto che aveva bruciato un buco nel soffitto. E questa cosa aveva messo ulteriormente a disagio Christine, ed era stata diciamo la goccia che aveva fatto traboccare il vaso e che le aveva fatto decidere di voler andare via di lì il prima possibile. Questo suo amico Q quindi telefona alla madre di Christine, Lynn, e le dice guarda che tua figlia vuole tornare a casa, fagliela una telefonata perché lei non ha il coraggio di chiamarti per prima. Lynn allora le telefona subito e le dice torna a casa per favore mi mancate tuoi bambini. Ma arrivano invece ad un compromesso. Decidono che Christine sarebbe andata a stare con sua sorella. E questo perché viveva in una città in cui c'erano più possibilità, più possibilità lavorative, più possibilità di conoscere gente, più possibilità di rifarsi una vita. La madre le dice che questa soluzione va benissimo per lei, le dice che le vuole bene, Christine ricambia. E queste sono le ultime parole che le due si scambiano. Quella telefonata avviene il 10 novembre del 2007, e Christine aveva pianificato di lasciare casa di Tia il 13 novembre, quindi tre giorni dopo questa telefonata. Ma quel giorno, il 13 novembre, Lynn riceve una telefonata orribile, da parte di Junior, il fidanzato di Tia. Junior dice a Lynn che quel giorno lui e Tia erano usciti per andare a fare delle commissioni e quando erano tornati a casa, Christine era scomparsa e i suoi figli erano lì da soli. E che poco dopo aveva trovato una lettera scritta da Christine in cui li ringraziava per averla ospitata per quei giorni. Quindi Junior stava insinuando, cioè da questa lettera aveva capito, che Christine aveva preso ed era andata via abbandonando i suoi figli lì. Ma invece Lynn, la madre di Christine, entra subito nel panico. Sapeva che sua figlia non avrebbe mai abbandonato i suoi bambini. E oltretutto, la sua borsa, il suo cellulare, era tutto rimasto a casa di Tia. E questa è sempre una cosa allarmante, perché una persona che va via volontariamente si porta dietro il portafoglio, si porta dietro il cellulare. La madre, insieme a sua sorella Karen, vanno subito a casa di Tia a riprendersi i bambini e denunciano subito la scomparsa di Christine alla polizia. Le autorità però perdono tantissimo tempo perché iniziano a rimbalzarsi un po' questo caso tra loro. Nel senso che all'inizio Lynn era andata dalla polizia di Pocomoke City. Perché Christine era scomparsa da lì, la casa di Tia era lì. Ma lì le dicono no, deve andare alla polizia del Delaware, perché Christine veniva dal Delaware. Lì invece le dicono no, deve andare alla polizia della contea di Worchester. Insomma, finalmente qualcuno raccoglie questa denuncia e iniziano le indagini. Le autorità chiaramente partono dall'ultimo luogo in cui Christine era stata vista, ovvero casa di Tia. E interrogano Tia, il fidanzato Junior, e il cugino di Tia, Justin. Che raccontano le autorità che appunto Christine stava vivendo lì in quel periodo. Raccontano dei problemi che stava avendo col suo fidanzato Levi. Tia racconta di essere stata probabilmente l'ultima a parlarle. Perché avevano chiacchierato tutta la mattina sul portico di casa. E poi Tia era appunto uscita col fidanzato per queste commissioni verso le due di pomeriggio e quando era tornata Christine non c'era già più. Le autorità perquisiscono la casa ma non trovano nulla di strano. La prima persona di cui sospettano, ovviamente, è proprio Levi, il fidanzato di Christine. Che le stava dando così tanti problemi, con cui litigava così spesso, che la picchiava. Sapevano che Levi fosse uno violento e sapevano che mettesse le mani addosso a Christine. Quindi sembrava filare tutto. Forse Christine aveva appunto preso il coraggio per lasciarlo e lui, non potendo accettare questa cosa, le aveva fatto del male. Ma quando lo interrogano, lui dà tutta un'altra versione della storia. Dice che i litigi, le violenze, erano tutta roba del passato. In realtà, racconta, stavano per tornare insieme. Racconta che quel giorno Christine gli aveva telefonato dicendogli di raggiungerla a casa di Tia per andare a prendere lei e i bambini e portarli via di lì. Ma Levi le aveva risposto che non poteva andarli a prendere prima di sera perché durante il giorno doveva lavorare. Ma Christine gli aveva risposto che sarebbe stato troppo tardi che lei voleva andare via prima. Levi quel giorno comunque era andato a lavorare e aveva passato lì tutta la giornata quindi aveva un alibi di ferro. Se qualcuno aveva fatto del male a Christine questa persona non poteva essere Levi. Levi, per dimostrare alla polizia la sua piena collaborazione fornisce il diario di Christine. La polizia analizza questo diario e all'interno trova diverse informazioni tra cui tre numeri di telefono di tre agenzie di adozioni. Le autorità quindi iniziano a pensare che forse Christine era davvero scappata forse era davvero stanca di occuparsi dei suoi figli da sola e voleva davvero liberarsene. Quindi a fronte di questi indizi e non essendoci nessuna prova che qualcuno le avesse fatto del male iniziano a trattare questo caso come un allontanamento volontario e addirittura ad un certo punto emanano un mandato di arresto verso Christine per abbandono di minore. Secondo loro appunto Christine era scappata per rifarsi una vita e aveva abbandonato i suoi figli. Lynn, la madre di Christine, era estremamente delusa dalle autorità delusa da come stavano gestendo quel caso. Di conseguenza decide di prendere in mano lei la situazione. È sicura che la polizia si stia sbagliando. È sicura che qualcuno abbia fatto del male a sua figlia. Inizia quindi a spargere volantini con sopra la foto di Christine ovunque e inizia anche a contattare varie persone che avevano passato del tempo a casa di Tia o che frequentavano comunque quell'ambiente e inizia a fargli delle domande per investigare, per scoprire qualcosa. La polizia non è molto d'accordo con questo e molte volte le consigliano di smetterla perché stava intralciando le indagini della polizia. Ma a lei, a Lynn, non importava più di nulla. Lei voleva solo sapere la verità, sapere cosa fosse successo a sua figlia e non si sarebbe fermata davanti a niente nessuno. La polizia ad un certo punto riceve una segnalazione da parte dell'autista di un pullman sempre della contea di Worchester che giurava di aver visto sull'autobus che guidava quella mattina una ragazza che era identica a Christine ed era convinto fosse lei. Ma questa segnalazione dà solo delle false speranze alla famiglia perché infatti quando le autorità vanno a verificare trovano questa ragazza che effettivamente sì, assomigliava molto a Christine ma non era lei. Ricevono anche tante altre segnalazioni che però non portano a nulla e secondo la madre di Christine si trattava di persone che stavano intenzionalmente cercando di depistare le indagini. Lynn continua a cercare la verità e a contattare la polizia ogni volta che scopriva qualche dettaglio che secondo lei era sospetto. E la polizia è stufa di ascoltarla. Ormai si erano fatti la loro idea. Erano convinti che Lynn, la madre di Christine non avesse intenzione di accettare questa dura verità e che stesse solo facendo perdere del tempo alle autorità con tutte queste cospirazioni. Decidono quindi ad un certo punto di non darle più retta e di non risponderle neanche più al telefono. Ma Lynn non si arrende neanche così. Decide di contattare un giornalista fa scrivere un articolo su Christine. Mette anche insieme un gruppo di ricerche di ben 100 persone e insieme a loro inizia a setacciare i boschi intorno alla casa di Tia. Ma purtroppo non trovano mai nulla. Lynn è disperata. Inizia a contattare altre famiglie a cui era successa la stessa cosa che avevano perso un familiare in modo da confrontarsi, parlare con loro. Ma purtroppo queste famiglie non riescono a dare a Lynn nessun consiglio, nessuna idea su come poter ritrovare sua figlia. Invece Karen, la sorella di Lynn, quindi la zia di Christine riceve un consiglio da parte di alcuni suoi amici ovvero quello di provare a rivolgersi ad una medium e chiedere a lei dove fosse finita Christine. Lynn è molto scettica, non crede a queste cose e non pensa che questa soluzione possa portare a nulla. Ma Karen insiste e quindi alla fine Lynn accetta. Tanto non aveva nulla da perdere. Si rivolgono a due sorelle che erano delle investigatrici criminali sensitive di nome Suzanne e Jean Vincent che le avrebbero aiutate attraverso la chiaroveggenza, le sensazioni e le visioni che le sorelle avevano. Lynn e Karen danno a queste due sorelle sensitive una collana di Christine per aiutarle a mettersi in contatto con lei. Lynn racconta che le sorelle non avevano voluto sapere nulla di Christine. Ma poco tempo dopo l'inizio di questa seduta le sorelle avevano iniziato a descrivere Christine per filo e per segno e non solo fisicamente ma anche caratterialmente era come se la conoscessero. Ma fin qui voglio dire potrebbero aver guardato un telegiornale o parlato con qualcuno. Ma poi ad un certo punto una delle sorelle dice di aver avuto una visione e in questa visione si trovava in un luogo molto buio. Le sorelle vedono chiaramente che Christine era morta e qualcuno l'aveva uccisa e l'aveva seppellita da qualche parte. Ma sentono anche qualcos'altro, un nome. Una delle sorelle allora prende una penna e comincia a scrivere su un foglio e il nome che viene fuori è quello di Tia. E questa cosa chiaramente è alquanto bizzarra perché Christine si trovava proprio a casa di Tia quando è scomparsa e non poteva essere una coincidenza. Lynn e Karen decidono di credere alle sorelle sensitive. C'era qualcosa che gli diceva che non si stessero inventando tutto. Lynn quindi decide di telefonare a Tia per parlare con lei e farle delle domande in più. Ma Tia reagisce in un modo molto strano e subito molto arrogante e dice a Lynn di lasciarla in pace. Le dice che aveva già detto tutto quello che aveva da dire alle autorità e non voleva più parlare con nessuno. Ma più Tia non parlava e più Lynn era convinta che c'entrasse qualcosa. Anche perché non so voi ma se a me sparisse un'amica da casa mia oltretutto vorrei fare davvero tutto il possibile per ritrovarla. O comunque per star vicino alla famiglia. E il fatto che lei non volesse collaborare e non la stesse neanche cercando era molto sospetto. Lynn a quel punto inizia praticamente a fare cyberstalking a Tia. Inizia a scriverle di continuo e inizia anche a scrivere a tutti gli amici di Tia facendo domande. E all'inizio nessuno collaborava ma poi dopo un po' finalmente alcuni membri della famiglia di Tia rispondono a Lynn dicendole di non fidarsi di Tia. Cioè dei membri della sua stessa famiglia sono andati dalla madre di Cristina a dirle che secondo loro Cristina era effettivamente morta e secondo loro Tia c'entrava qualcosa. Lynn telefona nuovamente alla polizia dicendogli quello che aveva scoperto e con l'aiuto dell'avvocato di Lynn riescono a convincere le autorità a tornare a casa di Tia e a indagare più a fondo su di lei. Ma quando si recano a casa sua scoprono che Tia non abitava più lì. Lei e tutti i suoi coinquilini erano andati via. Tia e il suo fidanzato junior erano andati a vivere in Tennessee mentre invece Justin, il cugino di Tia era andato a vivere in Texas. E questa partenza improvvisa è un chiaro campanello d'allarme per la polizia che finalmente iniziano a prendere Lynn un po' più seriamente. Poco tempo dopo le autorità scoprono che c'era un account su Facebook che pubblicava svariati post sulla sparizione di Christine ma postava delle informazioni che nessuno conosceva. Quindi palesemente la persona dietro questo account finto sapeva qualcosa o meglio era coinvolto. E quando controllano l'indirizzo IP dietro a questo account scoprono che proveniva da Houston in Texas proprio dove era andato ad abitare Justin, il cugino di Tia. Anche questa cosa non poteva essere una coincidenza ma purtroppo non avendo delle prove concrete non hanno potuto fare niente di più. Le indagini erano in stallo. Lynn a quel punto decide di tornare di nuovo dalle sorelle sensitive perché anche se sembra assurdo erano state le uniche ad aiutarla a fornirle una pista concreta. infatti anche questa volta le sorelle avvertono qualcosa durante la seduta. Iniziano a sentire puzza di bruciato letteralmente e una sensazione fortissima di calore e subito dopo l'ombra di una persona. Collegano quindi le due cose e dicono a Lynn che avevano capito si trattasse di una persona a cui piaceva il fuoco. Questa persona che avevano visto che avevano avvertito le sorelle era proprio ossessionata dal fuoco. E di nuovo questo dettaglio si rivela incredibilmente accurato perché il fidanzato di Tia Junior era effettivamente ossessionato dal fuoco. Si può dire che fosse proprio un piromane. Aveva il vizio di giocare col fuoco di bruciare le cose. Vi ricordate quell'incidente di cui Cristina aveva parlato al telefono con il suo amico del fuoco della stufa che aveva bruciato un buco sul soffitto? Beh quell'incidente era stato proprio causato da Junior ma purtroppo a quel punto le indagini non riuscivano a proseguire ed erano già passati due anni. E il 28 gennaio del 2010 Lynn riceve una lettera da parte di un detenuto di una prigione del Tennessee che diceva di sapere che cosa fosse successo a sua figlia. E il detenuto che l'aveva scritta altri non era che Junior Jackson il fidanzato di Tia il piromane proprio la persona di cui avevano parlato le sorelle sensitive. Junior in quel momento si trovava in prigione proprio per il suo problemino col fuoco. Era stato accusato infatti di incendio doloso perché aveva dato fuoco alla casa del suo vicino e praticamente l'avevano condannato a 15 anni di prigione e il genio pensa aspetta un attimo forse se gli do qualche dettaglio sulla sparizione di Christine magari posso riuscire a patteggiare e ricevere uno sconto sulla pena. in questa lettera Junior scriveva che Christine era morta e che lui sapeva dove fosse il corpo le autorità quindi volano in Tennessee per parlare con Junior e proporgli un accordo Junior dice alle autorità che gli avrebbe detto dove si trovava il corpo di Christine solo se a loro volta gli avrebbero annullato la pena per incendio doloso Junior specifica di non essere stato lui ad uccidere Christine ma diceva di sapere chi era stato e di sapere dove fosse il corpo le autorità quindi gli dicono che avrebbe dovuto fare il test del poligrafo ovvero la macchina della verità e se lo avesse passato solo allora gli avrebbero annullato la pena cosa che trovo estremamente rischiosa in quanto il test del poligrafo è risaputo non è accurato per niente quindi trovo rischioso basarsi solo su questo test per l'annullamento di una pena per incendio doloso però vabbè questo è quello che decidono di fare Junior accetta e rivela che il corpo di Christine era seppellito dietro a River House Inn che era un piccolo bed and breakfast in cui lavoravano sia Junior che Tia gli disegna anche una mappa dettagliata di dove trovarlo le autorità quindi tornano nel Maryland e iniziano con le ricerche e dopo aver cercato per tutta la giornata il 19 febbraio del 2010 finalmente trovano i resti della povera Christine il medico legale analizza i resti e conferma che si trattasse del corpo di Christine ma era passato così tanto tempo che avevano dovuto confermarne l'identità usando le impronte dentali scoprono anche che il cranio era completamente fracassato qualcuno quindi l'aveva uccisa colpendola alla testa con un oggetto contundente la madre di Christine a questo punto deve dare l'orribile notizia ai suoi nipoti ai figli di Christine e dice di avergli detto ricordate quando vi ho detto che la vostra mamma era scomparsa? beh per tutto questo tempo la mamma è stata in cielo Lynn era devastata ma da un lato si sentiva anche sollevata finalmente aveva ricevuto una risposta finalmente sapeva cosa fosse successo a sua figlia e avrebbe almeno potuto darle una degna sepoltura ma bisogna ancora capire chi sia stato a far del male a Christine Junior deve ancora raccontare tutta la storia e lo farà collegato al poligrafo Junior racconta che quando Christine era andata a vivere a casa di Tia Justin il cugino di Tia si era preso una cotta per lei che ben presto era diventata una vera e propria ossessione Justin era convinto di essere innamorato perdutamente di lei e il 12 novembre durante una delle tante feste che si tenevano lì Justin e Christine hanno una discussione probabilmente proprio a causa di questi atteggiamenti gelosi e possessivi del sedicenne nei suoi confronti e dopo questa discussione Christine va da Junior lo prende da parte e gli chiede di potergli parlare in privato non sappiamo con esattezza di cosa avessero parlato forse della litigata appena avvenuta con Justin o forse del fatto che Christine avesse intenzione di andarse nel giorno dopo fatto sta che Justin vede Christine e Junior parlare da soli nel bosco e gli prende uno scatto di gelosia e di rabbia così forte da non riuscirsi a controllare prende quindi una pala che era lì per terra e colpisce Christine in faccia e alla testa così forte da fracassarle il cranio e ucciderla Junior racconta agli investigatori che a quel punto Justin lo aveva pregato di aiutarlo a nascondere il corpo e lui accetta e lo aiuta insieme a Tia quindi lui Justin e Tia prendono il corpo di Christine e lo seppelliscono dietro a quel bed and breakfast ora in tutto ciò Junior mentre racconta la storia è appunto collegato al poligrafo l'accordo era che se avesse passato quel test quindi se avesse dimostrato di non essere coinvolto nella morte di Christine allora gli avrebbero annullato la pena per incendio doloso ma fortunatamente questo test non lo passa era chiaro che fosse coinvolto nella morte di Christine non solo era stato lì a guardare mentre Justin la uccideva ma lo aveva anche aiutato a nascondere il corpo di conseguenza la polizia lo arresta però mi c***o di primo grado successivamente vanno a prendere Tia e Justin e interrogano anche loro vogliono sentire la loro versione ma la versione di Justin è completamente diversa da quella di Junior Justin sosteneva che fosse stato Junior ad uccidere Christine e questo perché anche lui era innamorato di lei e quel giorno quando erano andati nel bosco a parlare da soli Justin dice di averli visti e di aver visto che Junior ci aveva provato con Christine allora Justin era intervenuto per proteggere Christine ma Junior in preda alla rabbia per essere appena stato rifiutato da Christine aveva preso questa pala che si trovava lì per terra e l'aveva uccisa quindi Justin stava scaricando tutta la colpa su Junior quando interrogano invece Tia anche lei nega di essere coinvolta e anche lei punta il dito verso Justin ma ammette di averli aiutati a nascondere il corpo per gli investigatori è difficile capire chi stia dicendo la verità chi sia stato effettivamente a colpire Christine se Justin o Junior ma i loro racconti sono sufficienti per accusarli entrambi di obiettivo di primo grado mentre Tia viene accusata di favoreggiamento Junior e Tia decidono di patteggiare dichiarandosi colpevole Junior di obiettivo di primo grado e Tia di favoreggiamento Junior viene così condannato a 30 anni di prigione mentre Tia a 7 anni e mezzo invece Justin si rifiuta di patteggiare e continua a insistere dicendo che è stato Junior a uccidere Christine ma alla fine viene condannato anche lui a 30 anni di prigione per un figlio di primo grado la famiglia di Christine ha quindi avuto giustizia la madre di Christine Lynn dice che comunque poco importa perché questo non le ridarà mai sua figlia ma dice comunque di voler andare avanti non vuole essere anche lei vittima di queste persone spregevoli vuole andare avanti per i suoi nipoti di cui adesso deve occuparsi questi amici sono tutte le informazioni che ho su questo caso ditemi se lo conoscevate già lasciatemi un commento qua sotto come al solito e come al solito io vi ringrazio di aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo come al solito al prossimo video ciao ciao